Mi è piaciuto l'ultimo, Gattuso Orgoglio Calabrese, la Calabria è un feudo rossonero e non da oggi, lui da piccolo era un tifoso rossonero, pensa che sia un momento speciale in una regione proprio tradizionalmente rossonera. E guarda un po' che dice, se Federico Buffa si sente male, chiediamo l'intervento di qualcuno, al fianco di Mauro Suma, io ho già visto la sua reazione, il capitano Paolo Maldini. Ma come sei conciato lì in studio? E devo avviare in qualche modo Paolo, insomma, i festeggiamenti, non posso farli insieme a tutti gli altri tifosi, mi sono bardato così, complimenti comunque. Mi sembra giusto. Fa la vittima perché lui è in studio e non è venuto a Manchester, capito? Vabbè, almeno lì se la gode, dai. Ma non tanto, ma lì se la gode. Ah, voi invece, lì, lì poca roba. Io avrei un ospite, oltre al capitano del Milan. Non è mio figlio che è basso, ma è... Vi piace? Poppetta. E questo finalmente, Mauro, è quello che volevano vedere, credo... Ti dico, dentro c'è ancora un po' di vino e di birra, quindi... Un gran mix questo. Fate voi. Però credo... Devo dire una cosa, che quando era stata presentata proprio con tuo papà, Paolo, a San Siro, prima del doppio derby con l'Inter, eravamo presenti sia la nostra troupe che la troupe di Inter Channel, ricordo che l'inviato di Inter Channel l'aveva voluto posare vicino alla Coppa. Io ero scappato. Tu sapevi che avrei tempo dopo, quindi... È andata bene, dai. Il capitano tutto per noi, in diretta su Milan Channel, ne siamo felici per i nostri abbonati. Un modo di festeggiare è sicuramente guardare Milan Channel e vivere con il capitano questa emozione che stai ancora assaporando. Sì, adesso siamo tutti stanchi, ma non tanto fisicamente, ma ci ha tolto veramente tutto, ci ha prosciugati questa partita. Ci siamo goduti questa vittoria, ma probabilmente domani, quando ci sveglieremo, sarà ancora più bello.